I finanziari di Reggio Calabria hanno arrestato e messo a domiciliare un uomo che si faceva passare per mago, esercitando la sua attività nella città dello stretto, ritenuto però responsabile dei reati di truffa gravata e autoriciclaggio. Per questo motivo gli sono stati anche sequestrati oltre 1.400.000 euro, intestati ad una dita individuale di fatto utilizzata per fornire consulenze esoteriche e di una stazione di servizio, attività ottenute grazie ai proventi delle plurime attività illecite poste in essere dall'uomo. Le indagini sono state avviate a seguito di una denuncia asporta da una vittima, la quale ha dichiarato di essersi rivolta al maestro dopo aver affrontato un periodo di depressione dovuto alla perdita della madre, anch'essa in passato seguita dallo stesso mago. Alla donna, l'uomo, dice che le restavano pochi mesi di vita e che pendesse su di lei una fattura, ma per scongiurare la morte avrebbe dovuto seguire un percorso di incontri settimanali, nonché acquistare polveri, liquidi contenenti bottigliette di plastica e talismani, di fatti conseguendo un ingiusto profitto per complessivi 11.000 euro, corrisposti sia in contanti che con ricariche poste pay. Le fiamme gialle hanno oppurato che il sedicente mago usava la fragilità e la vulnerabilità delle sue vittime, convinte di essere colpite da negatività o sfortune, facendo leva su una delle tradizioni popolari più radicate, consistenti nell'uso di amuleti, talismani e liquidi portafortuna venduti a peso d'oro. Nell'indagine risulta coinvolta anche la moglie del maestro, indagata per reciclaggio per avere impiegato e sostituito i proventi derivanti dalle attività illecite del marito in iniziative economico-imprenditoriali come la stazione di servizio e finanziarie, acquistando polizze e titoli di credito.